1, 2, 3, 4, can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10, I love you. Non più sorprese ma in realtà Lazio e Napoli, ottava giornata della campionata di Serie A di fronte allo Stadio Olimpico. Lazio-Napoli, partita che promette spettacolo, partita da non perdere, soltanto un punto divide le due squadre. Lazio 13, Napoli 14. Attenzione intanto, Pandev, grande giocata, dribbling, Pandev fino in fondo, rimpallo! Grande opportunità per la Lazio, sul piede di Pandev. Lavezzi di testa, prova a servire Denis, pote giù, prova a girarsi, Denis, troppo comodo per lui, Lavezzi col destro! Pallone che termina largo, primo brivido per la difesa della Lazio. Pandev, Sarate, dentro, attenzione Sarate, Sarate, arriva prima lui di Iezo, Sarate! La porta è chiusa però, Sarate prova ancora a toccare per Pandev, che grande occasione per la Lazio. Sarate riesce a trovare il barco, Pandev mette giù, attenzione, deve solo girarsi, riesce a servire Mauri, sinistro! Con i piedi Iezo, grande parata! I fischi del pubblico, è pronto Gargano, che proverà direttamente in porta. Parte Gargano col destro, traversa, era immobile Carrizzo! Gargano, zona tiro, dribbling, secco su Manfredini, ancora Lavezzi, destro! Pallone che termina di un soffio al lato! Lavezzi, mantiene il pallone in campo, attenzione, parte il cross, Denis! Grande intervento in uscita di Carrizzo! Lavezzi, cerca spazio, il barco lo trova, Amsic, ancora Gargano, ancora Lavezzi, prova a inserirsi in area di rigore con la sua velocità, Lavezzi strepitoso, fino in fondo, mette dentro, deviazione, Rete! Autogol, Napoli in vantaggio, il stocco di Siviglia e il Napoli passa, grazie a un'invenzione di Ezequiel Lavezzi. Parte Sarate, il suo destro, la barriera, ancora Sarate, destro, Navarro, due tempi. Occhio al cross di Lavezzi, dentro per Denis, ma in anticipo Carrizzo. Inzaghi vuole girarsi, Pandev, destro! Il miracolo di Navarro, Inzaghi, alto! Che occasione! Il pallone che arriva a Lavezzi, zona tiro, Lavezzi, attenzione, dribbling! Lavezzi, cosa ha salvato Siviglia! Finisce qui, non c'è più recupero, dopo cinque minuti finisce con il fischio di Banti, Lazio 0, Napoli 1, decide l'autogol di Siviglia. Grazie! Grazie!